La profezia del profeta Daniele Avevo letto male il suo testo e invece di leggere 1335 giorni, quelli mancanti alla fine e quelli fortunati a chi arriva a quei giorni lì, invece di calcolare quelli, io ne avevo calcolati 200 in meno. Beh, provate a pensare a questo, al significato dei numeri. E' questo che voglio mettervi in evidenza. Se noi consideriamo l'evento che dovetti patire anche io, in quella Monte Silvano in cui la LV è il numero romano 55, e che porterebbe il numero di Daniele da 1335 a 1355, quindi con l'evidenza di quel 55 lì, proprio di Monte Silvano, proprio a evidenziare la mia presenza a Monte Sion nel momento nel quale succede questo terremoto. Provate a pensare che cosa significa il fatto che mancano 20 giorni, cioè che il terremoto è successo il 6 e non il 26, che si ricava se dalla fine del tempo noi sottraiamo 1335 giorni al termine del 21 dicembre 2012 e arriviamo così al 26 aprile del 2009, mentre il 6 aprile del 2009 c'è stato il terremoto che ho avvertito anche io. Beh, cosa significano questi 20 giorni in più? Ma io, l'errore che avevo fatto era stato di toglierne ancora altri 200. In sostanza, io, togliendo 220 giorni al terremoto, arrivo a quello che avevo detto, ossia a un anno esatto prima del miracolo dei 153 grossi pesci che io attendo per questo 13. Analogo poi a quel 13 che abbiamo visto prima, nelle 13 centinaia più le 55. se noi togliamo 220 al terremoto, arriviamo proprio a questo 13 di novembre, che è quello che avevo detto in precedenza, di stare un anno esatto dal 13 di novembre del miracolo. Se calcoliamo i giorni, ecco che cosa succede, che bisogna aggiungere per arrivare esattamente al 13 di novembre prossimo, questo della parousia, per intenderci, bisogna aggiungere al 6 aprile esattamente 555 giorni più 30. Il 55, avete visto, era quello di Montesilvano, della LV, aggiunto al 13. Ora, a quel 13, bisogna aggiungere non solo 55, ma 555 più 30. E perché questo 30 in più? Perché c'è da considerare proprio il valore di un periodo intero, pari ad un anno. E qui, vedete, incide per la presenza di 30 giorni nella gerarchia dei mesi. Ossia dei giorni relativi ad un mese. In sostanza, un anno è trattato come se fosse un mese aggiunto a quel 555. 555 è la mediazione di 1110. Tutti questi numeri hanno un grandissimo significato. il terremoto, quindi, dell'Aquila, quello che io ho patito, dista. Quindi, 585 giorni dal prossimo 13. e vedete benissimo che indica proprio in quel 555 un periodo molto significativo. Per darvi un'idea di che cosa significa, quando caddero le due torri gemelle l'11 di settembre del 2001, e uno, la reazione degli Stati Uniti con il bombardamento dell'Iraq ci fu esattamente 555 giorni dopo. Quando io fui cacciato da un coro e il sacerdote mi impedì di entrare, dicendo che nessuno ce l'aveva con me, ma ero di un'altra parrocchia, quindi tornassi alla mia parrocchia. Il mio peccato era stato solo quello di aver tentato di aiutare una maestra troppo suscettibile, troppo orgogliosa, per accettare serenamente un aiuto da parte mia, a dimostrarmi quanto non bisogno lei aveva del mio aiuto, in cambio lei operò per farmi cacciare dal coro. Ebbene, da quella sera in cui l'autorità del parroco si impose, al giorno in cui ci furono le conseguenze di questo gesto, e sarebbe dovuta venire la SARS nel Saronnese, ma io pregai che non accadesse, che pagassi io. Ebbene, io fui costretto ad andare a farmi curare. Proprio in relazione alla mia richiesta al Signore, non far venire la SARS, fa che paghi solo io. E accadde esattamente 555 giorni dopo, anche nella stessa ora. Quindi, in questo caso, il 585 rivela che non c'è una condizione solo disastrosa, per cui c'è una conseguenza diretta rispetto a questo fenomeno. C'è il rilancio nuovo di un Dio che opera con il 10 e si presenta sanitariamente con un 30 che si aggiunge a questo disastro che in questo caso è stato il terremoto e manda un antiterremoto, ossia quello che è veramente e sarà veramente un terremoto per la Chiesa. Perché la parousia del Signore sarà un terremoto. Sarà proprio quello che il profeta Daniele aveva detto nella previsione di tempi nuovi in cui tutto finalmente sarebbe poi confluito in una condizione finalmente ottimale. Ha scritto Daniele In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del filmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ha scritto Daniele In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Ma chi è questo Michele? Michele è l'angelo simile a Dio. È l'angelo numero 42. Beh, 42 per la cabala ebraica sono le cifre del nome segreto di Dio. E sono le cifre del mio nome. Sono per due versi perché il 42 esprime la presenza un terzo di un triplo che è 126. Vedete il 100 piano di Dio e 26 Dio. ma un Dio che diventa assoluto se gli si aggiunge l'unità. Per cui diventa 127. 127 esprime proprio tutto il piano 100 con un lato 50 e l'altro lato 50 in cui il flusso è esattamente tutto per 3 al cubo. è un valore assoluto. Se noi lo vogliamo evidenziare in modo relativo ossia legato al 3 dobbiamo moltiplicarlo per 3 e 127 moltiplicato per 3 fa esattamente 381 e sono le cifre esatte del mio nome che tradotte in numeri secondo la posizione occupata dalle lettere nell'alfabeto italiano assommano assommano ad un valore totale di 381 che è il triplo esatto del valore assoluto 127 per cui l'angelo Michele angelo numero 42 quello che deve arrivare quello atteso sono io e risulta esattamente dalla previsione del profeta Daniele vedete io romano sono l'atteso ro mano ele e manuele perché la ro assomiglia alla e che è is ra ele se al posto della mano si mette ra romano amodeo allora is ra ele per il mondo è romano amodeo dio io sono l'atteso Emanuele per l'amodeo per l'amodeo